...audizioni formali, siamo in sede di Ufficio di Presidenza Allargato, i disegni di legge sono quelli 824, 163, 245 e 475 in materia di contrasto alla surrogazione di maternità e sull'atto di governo 137 lo faremo dopo. Per quanto riguarda gli avvisi che devo fare intanto faccio presente che è già collegato con noi il professor Marco Pellissero che è professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Torino che lo ringrazio a nome della Commissione e faccio alcuni avvisi. In questo momento in aula ci sono alcuni rappresentanti dei gruppi parlamentari anche se lei vede soltanto ripresa dal Banco della Presidenza in realtà ci sono altre persone in quest'Aula ma a prescindere da questo ci sono dei collegamenti, un collegamento diretto web tv del Senato che è stato autorizzato dal Presidente del Senato per garantire la pubblicità di questi lavori. Devo farle presente che a prescindere ovviamente dall'interesse che possiamo avere per le singole audizioni, la Commissione ha stabilito di destinare un tempo pari a tutti coloro che vengono auditi, pertanto è stato previsto che l'esposizione iniziale dell'audito deve concentrarsi in 8-10 minuti massimo, seguirà una seconda parte di questa audizione dopo eventuali domande da parte dei commissari. Qualora non si riuscisse in questa fase conclusiva a esporre l'intero pensiero ovviamente la Commissione potrà ricevere delle note. Nel ribadirle che le siamo grati per questo suo intervento le cedo la parola. Grazie Presidente, buongiorno. Io ho inviato già questa mattina alla segreteria della Commissione alcune note che possono essere utili ad integrazione di quanto andrò a dire. I disegni di legge ai quali lei ha fatto riferimento finiscono per riprendere già alcune proposte che erano state presentate nella precedente legislatura, disegno di legge Melone e disegno di legge Carfagna e sono tutte finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della legge penale italiana ai fatti commessi all'estero relativi alla maternità surrogata. Dei disegni di legge che oggi sono all'esame della Commissione io prenderò in termini più ampi in considerazione il disegno di legge numero 824 in quanto gli altri disegni di legge, ne farò un breve cenno, presentano una serie di profili di difetti di tecnica legislativa e anche di irragionevolezza del contenuto delle disposizioni che si aggravano rispetto alla situazione del disegno di legge Barchi. Il disegno di legge 163 Gasparri estende irragionevolmente la legge penale italiana anche ai fatti commessi dagli stranieri con la conseguenza di prevedere l'estensione della legge penale italiana anche ai gestori delle cliniche nelle quali si pratica la maternità surrogata in ordinamenti dove questa è perfettamente legittima. Secondo elemento che segnalo di questo disegno di legge prevede l'obbligo in capo alle autorità diplomatiche consolare italiane e agli uffici di Stato civile nell'atto in cui procedono alla legalizzazione dei documenti di nascita o quando ricevono una dichiarazione di nascita di richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di maternità surrogata. Ora attenzione che questa disposizione è del tutto irragionevole perché è finalizzata ad acquisire da parte dei genitori una dichiarazione di autoincriminazione in contrasto con il principio nemmo tenetur se detegere. Disegno di legge 245 Rauti e Malan anche questo si espone alle stesse riserve critiche perché estende l'ambito di applicazione della legge italiana anche agli stranieri che commettono il fatto all'estero. Infine il disegno di legge 475 presenta una pessima tecnica legislativa. Segnalo il fatto che all'interno del disegno di legge ci sia una norma che addirittura richiama il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale, la 272 del 2017, che effettivamente afferma che la pratica di surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina in profondo le relazioni umane. Ora se questa effettivamente è la posizione della Corte Costituzionale diventa anomalo che in un disegno di legge entri nel contenuto di una disposizione il riferimento a una sentenza della Corte. Attenzione poi anche che questo disegno di legge richiama una serie di posizioni di risoluzione del Parlamento europeo che in realtà sono molto critiche, certo sulla maternità surrogata, ma quando questa è un elemento di sfruttamento soprattutto rispetto alla maternità surrogata di tipo economico. Ultimo elemento che segnalo sempre di questo disegno di legge, il fatto che estenda al delitto di maternità surrogata la disciplina dell'articolo 604 che è quella che consente per alcuni reati in tema di violenza sessuale, pedopornografia, l'applicazione della legge penale italiana ai fatti commessi all'estero. Attenzione che l'articolo 604 prevede l'estensione della disciplina penale italiana non solo agli italiani che commettono il fatto all'estero, ma anche agli stranieri che lo commettono in concorso con gli italiani. Quindi incorriamo di nuovo in quella soluzione un po' aberrante di prevedere l'estensione della disciplina italiana anche agli stranieri. E veniamo invece al disegno di legge numero 824, disegno di legge Varchi, che estende invece l'applicazione della legge italiana solo quando i fatti sono commessi dagli italiani. Quindi qui abbiamo una limitazione della disciplina. Segnalo però alcuni elementi secondo me di irragionevolezza di questa disposizione. Io faccio riferimento innanzitutto a una difficoltà che secondo me pratica, che ci sarà e cioè sarà una disposizione che avrà elementi di ineffettività già in partenza. Perché mi sembra molto difficile che prevedendo l'applicazione così incondizionata della legge penale italiana si riesca a arrivare a una qualche forma di collaborazione con l'autorità straniere in contesti dove la gestazione per altri è perfettamente legale. Un primo elemento di irragionevolezza lo segnalo rispetto al fatto che noi ci troviamo di fronte non ad un reato universale, cioè che è sanzionato in tutti i sistemi, ma ci troviamo di fronte ad una disciplina estremamente sfaccettata. In alcuni sistemi costituisce reato, in altri c'è la differenza tra la GPA, quella economica e solidale, in altri sono previste solo sanzioni di tipo amministrativo. Quindi non è una fattispecie che riceve un riconoscimento unanima a livello internazionale. Segnalo però alcuni elementi di irragionevolezza ulteriore. Un elemento di irragionevolezza ulteriore che segnalo è come questa disposizione che si vuole introdurre entri in contrasto con due elementi. Primo è irragionevole rispetto alla disciplina di parte generale del Codice Rocco. Il Codice Rocco è un codice estremamente diffidente rispetto all'amministrazione della giustizia da parte di ordinamenti stranieri, però attenzione che già oggi la GPA può essere repressa per fatti commessi all'estero alle condizioni previste dall'articolo 9,2 e cioè a condizione che l'italiano sia sul territorio dello Stato e a condizioni che ci sia la richiesta del Ministro della Giustizia, che a me risulti in un solo caso il Ministro della Giustizia in questi anni ha presentato la richiesta per l'applicazione della legge penale italiana, il che segnala che anche da un punto di vista istituzionale non c'è un particolare interesse alla repressione di questi fatti. Secondo elemento che segnalo, il Codice Rocco certo prevede alcuni casi nei quali la legge penale italiana viene applicata incondizionatamente, sono indicati all'articolo 7 e sostanzialmente qui si vuole equiparare la GPA ai reati di cui è l'articolo 7. Attenzione però che abbiamo una fattispecie che è del tutto distonica rispetto alle indicazioni che troviamo nell'articolo 7, dove troviamo reati contro la personalità dello Stato, reati che hanno una connotazione di tipo pubblicistico. C'è poi sempre nell'articolo 7 quel riferimento nel numero 5 a qualunque altra disposizione di legge o convenzione internazionale che preveda l'applicazione della legge penale italiana, ma qui abbiamo a che fare con i cosiddetti crimina iuris gentium che hanno un riconoscimento a livello universale. Poi è vero che il legislatore per alcune fattispecie ha fatto la scelta di estendere l'ambito di applicazione della legge penale italiana per fatti commessi all'estero. Prima facevo riferimento all'articolo 604 e va bene ma l'articolo 604 prevede una serie di fattispecie che trovano amplissimo riconoscimento sul piano del disvalore internazionale. Faccio riferimento riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione accesso di materiale pornografico e via dicendo sfruttamento illecito del lavoro. E' certo che queste fattispecie è giustificato che abbiano un'applicazione anche quando il fatto viene commesso all'estero dagli italiani. L'elemento che segnalo ancora è una distonia forte tra le indicazioni che noi ricaviamo dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 33 del 2021 e le scelte che sta facendo il Parlamento. Lo dico perché è vero che la Corte Costituzionale in quella sentenza del 2021 ribadisce quanto aveva detto nella sentenza del 2017 e cioè che la maternità surrogata offende la dignità in modo inaccettabile la dignità della donna. Però attenzione, la Corte Costituzionale aveva sottolineato la necessità che il Parlamento intervenisse e aveva parlato di una esigenza indifferibile per risolvere il problema dello stato giuridico dei minori nati dalla GPA. Ora a me pare che sia del tutto irragionevole che il Parlamento oggi decida per una estensione dell'ambito di incriminazione che non risolve, anzi semplicemente finisce per complicare lo stato giuridico dei minori nati da maternità surrogata. Vedo cioè e qui concludo davvero come la proposta, il disegno di legge vada in una direzione fortemente simbolica, in una direzione che tende a pubblicizzare il concetto di dignità della donna e mi preoccupa il fatto che ci sia un forte scollamento tra il disegno di legge e quelle che sono le evoluzioni che ci sono sul piano del diritto di famiglia. Grazie professore, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Allora io volevo soltanto sapere, ho compreso appunto la sua posizione, se secondo lei si possono fare delle distinzioni tra surrogazione remunerata e invece surrogazione senza remunerazione o se lei comunque equipara le due cose? No, secondo me dovrebbero essere oggetto di distinzione. Un attimo perché forse il senatore Scalfarotto sì, non l'avevo visto. Grazie professore, ho una domanda per lei che è la seguente, giustamente lei si riferiva al principio fondamentale per cui nessuno può essere tenuto a denunciare se stesso, in realtà le chiedo se secondo lei possiamo in questo caso, se questa legge fosse approvata, avere una categoria di persona specifica che sarebbe costretta a denunciare se stessa, nel senso che una coppia eterosessuale che si recasse all'ufficio dell'anagrafe per registrare la nascita del bambino, ovviamente se non è tenuta ad autodenunciarsi il bambino viene registrato. Se la coppia invece non è eterosessuale e quindi per esempio è una coppia omosessuale, l'autodenuncia sarebbe nei fatti, diciamo, perché l'ufficiale dello Stato civile senza bisogno di alcuna autodichiarazione dovrebbe rilevare il fatto che il bambino è nato con la maternità surrogata. Non crede che anche questo introduca un elemento di discriminazione che evidentemente va a colpire una categoria in particolare e non la generalità dei cittadini? Grazie. Senatore Bazzoli, no, sì. Posso rispondere? No, scusi. No, dovrebbe un attimo aspettare l'ultimo intervento e poi risponde a tutti e tre nella parte conclusiva. Prego. Sì, una domanda molto secca, molto rapida e molto, credo, veloce. Lei ha fatto riferimento appunto a una sentenza della Corte che invita il legislatore a intervenire per il miglior riconoscimento dei diritti dei bambini nati nella maternità surrogata e ha anche fatto un cenno alla ipotesi che una legge come questa rischi di creare qualche problema a questo riconoscimento degli interessi dei minori nati nella maternità surrogata proprio perché i genitori e anche i genitori intenzionali rischierebbero di essere colpiti da una sanzione penale e quindi questo potrebbe forse recare qualche documento agli stessi interessi dei bambini. Ecco, su questo punto specifico lei può magari darci qualche ulteriore indicazione? Professore, allora dovrebbe dare una risposta ovviamente con le sue conclusioni finali nel limite di tempo assegnato. Grazie. Benissimo, allora velocemente, sì ritengo anch'io che debba essere differenziata la maternità surrogata di tipo economico rispetto a quella di tipo solidale, questa però non è la scelta che sta facendo il Parlamento perché il reato di maternità surrogata comprende tutte e due. C'è una proposta ad esempio, questa ve la mando, l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, aveva elaborato anche all'interno di una commissione interna dell'Associazione anche una proposta di riforma che andava invece nella direzione della limitazione della responsabilità penale esclusivamente alla maternità surrogata di tipo economico. Seconda considerazione che faccio invece rispetto alla riflessione del senatore Scalfarotto, effettivamente la nuova disciplina introdurrebbe una situazione più difficile per le coppie omosessuali perché effettivamente di fronte all'ufficiale dello Stato civile queste necessariamente denuncerebbero per il fatto di presentare l'atto di nascita, dovrebbero necessariamente autodenunciarsi e questo probabilmente è l'effetto indiretto che vuole ottenere la legge, cioè andare a colpire le coppie più omosessuali rispetto a quelle eterosessuali che peraltro sono la maggior parte delle coppie che accedono alla gestazione per altri. Il terzo profilo che segnala, che mi veniva evidenziato, allora io non credo che questa sentenza, attenzione, non credo che la scelta del legislatore di incriminare porti a modificare in qualche modo il problema dello status del minore, nel senso che già oggi il fatto costituisce reato, già oggi il fatto può essere represso se commesso all'estero, basta che ci sia la richiesta del Ministro di Grazie e Giustizia e basta che ci sia la presenza dell'italiano sul territorio dello Stato e già oggi il fatto, la norma penale può essere applicata. Segnalo però come la distonia che noto è questa, cioè il legislatore decide di incriminare, estendere di più l'ambito di applicazione della legge penale e non fa invece la scelta che dovrebbe fare di risolvere il problema che la Corte Costituzionale ritiene non ancora adeguatamente affrontato, dello status dei minori, perché la Corte dice la disciplina che oggi anche la Corte di Cassazione a sezione unita nel 2022 ha detto applicabile, cioè quella dell'adozione in casi particolari, è una disciplina che non assicura in modo adeguato la tutela del minore. Allora noto questa forte discrasia di indicazioni del legislatore. Grazie professore, a nome di tutta la Commissione per il suo contributo, ovviamente terremo conto sia delle sue considerazioni sia della nota scritta. Possiamo chiudere il collegamento, possiamo proseguire. Allora adesso dovremmo avere, ah no, cambiamo totalmente materia. Eh va bene. Adesso dovremmo passare alle 10 minuti. Ok.